Beh, uno spettacolo ovviamente solo di danza, ci sarà anche un'orchestra dal vivo che accompagnerà parte dei brani di danza, ci saranno tantissimi colleghi, iniziando da Ambetato Romani, Virna Toppi, prima ballerina della Scala di Milano, insieme al suo partner Nicola Del Freo, i primi ballerini del teatro e dell'opera di Roma, Susanna Salvi e Claudio Cocino, ci sarà la vincitrice di Amici di quest'anno, insieme a Simone Nolasco, insomma tutta una serata dedicata alla leggenda mondiale, la signora Carla Fracci che è scomparsa poco tempo fa, in realtà era uno spettacolo dedicato in sua presenza, è da due anni che ci lavoriamo, Poi è successo, insomma come sappiamo tutti, è diventato uno spettacolo in memoria, in onore suo, con la supervisione del suo marito, maestro Beppe Melegati. Ecco, quindi che cosa rimane di lei appunto in questo spettacolo, lei non ci potrà essere, però insomma rispetto anche a tutte le esperienze che avete avuto insieme in questi due anni? Beh, la sua memoria, la sua conoscenza, la sua danza immortabile, la sua sensibilità, umiltà, il suo sorriso. Carla era una persona che è voluta bene da tutti, da tutti, non soltanto gli addetti al lavoro, ma ogni persona anche se non aveva a che fare con la danza, con questo mestiere, ha avuto un ricordo suo, perché era sempre ovunque, anche essendo un etuale, la trovavi ovunque, sia in piazza, sia nella scuola di danza, vicino alle persone, diciamo che era la Carla del popolo, ecco. Tornando allora dunque a 30 anni fa, lo sbarco della nave Vlora, ecco, domani tra l'altro nel nostro speciale racconteremo anche le emozioni di 30 anni fa, tu eri a bordo della nave, avevi 17 anni, eri giovanissimo, dunque ti chiediamo un ricordo a distanza di tanti anni, e poi che cosa resta di quegli anni nel rapporto oggi tra l'Italia e l'Albania? È cambiato se sì come? Ma sicuramente è cambiato rapporto, è rinforzato l'amicizia tra due popoli, è un mare, perché alla fine è l'Adriatico che ci divide, ma il ricordo è vivo, perché io avevo poco più di 17 anni, proprio questa, ero assettato di conoscenza, di curiosità, e proprio l'incoscienza di quando si è giovane è fatto sì che io mi imbarcai, insomma, in quella grande nave che ha cambiato la storia, è diventato un momento epocale, se posso dire storico, perché da quel momento in poi è cambiata proprio la storia anche verso l'immigrazione e poi sappiamo il resto, insomma, è una storia viva che si ripete quotidianamente. Ovviamente erano tempi diversi, momenti diversi, l'Italia era anche molto curiosa verso gli stranieri, mi ricordo tutti i cittadini di Bari, insomma, che erano molto felici quasi, perché c'era curiosità di avere un popolo a poche miglia di distanza, ma non c'era mai questa possibilità di conoscere le persone che c'erano dall'altra parte del mare. Ovviamente la curiosità, come ho detto prima, noi eravamo in 20.000, poi c'è stata la sconfitta, perché ci siamo stati rimpatriati, come si sa, però, insomma, rimane un ricordo indelebile nella mia memoria e non solo, anche dei miei connazionali. È stato un giorno, sto guardando intanto l'immagine, sto tornando 30 anni fa, era proprio così. Forse c'era più curiosità, anche 30 anni fa, verso chi non conoscevamo e poi, vabbè, per voi, naturalmente la prima volta che potevate uscire dai confini della vostra nazione, insomma, dell'Albania. Ecco, ma volevo chiederti, all'interno di quella nave c'erano già le radici, insomma, di quello che poi avresti voluto diventare? C'erano le radici dei tuoi sogni? Beh, come ho detto, insomma, la curiosità di sapere cosa c'era al di là del mare. Io, come tanti albanesi, anche se l'Italia era vicina e intoccabile per tutti noi, noi abbiamo vissuto, grazie alla TV, vicino all'Italia, quasi il 90% degli albanesi sapeva già parlare benissimo l'italiano. Io ero cresciuto con Fantastico, di Raffaella Carrà, insieme a Maratona d'estate di Vittorio Autolenghi. Sì, la voglia di assaporare la libertà e non avere, insomma, confini era tanta. E chi è giovane lo sa bene, tutt'oggi. Ovviamente l'unica possibilità per assaporare questa libertà era quella di scappare in quel modo e così si è fatto, insomma. Posso dire a distanza di 30 anni che sono anche fortunato, insomma, ad essere stato uno di quei 20.000 albanesi, perché è come se ho vissuto due vite diverse. Non penso che una cosa del genere possa ricapitare di nuovo. Non si sa mai, però non in questo modo, insomma. Oggi siamo andati evoluti un po' tutti. Eh no, sicuramente. E poi c'è anche stata la fortuna di lavorare anche in televisione. Hai citato appunto tanti programmi che hanno unito le due nazioni. Tu sei arrivato anche in televisione che ha anche questo... Insomma, è un po' stato anche un collante tra i due paesi. Beh sì, la televisione... Io sono cresciuto e sono... Ho studiato nell'Accademia di Danza di Tirana. Mai e poi mai avrei pensato, insomma, che la televisione sarebbe stata la mia seconda casa in Italia. E così è diventato, ma senza avere quel tipo di obiettivo. Il mio obiettivo era diventare ballerino, di avere una massima conoscenza di questa bellissima arte. E proprio essendo un ballerino, per chi lo fa come mestiere, ma anche come passione, sa bene che noi viviamo con le valigia in mano, insomma. Girare il mondo, girare le città diverse per conoscere i nostri vicini. È un mestiere, posso dire, che apre un po' i confini. Non ci sono quei concetti per quanto riguarda, ecco, lo straniero, il nemico, fra virgolette. Ecco, una compagnia di danza sarebbe bellissimo paragonarla a un... Europa è unita per davvero, diciamo, ecco.